Siamo con Mr. Prantera, un Mirto che vince dopo una partita di grande sacrificio, di grande attenzione con Farako, porta a casa tre punti importantissimi contro un Abruzium che ci ha provato, specie nei primi minuti non ho visto un grande approccio alla gara da parte vostra, però poi alla fine a volte il calcio magari regala anche queste soddisfazioni Sì, siamo venuti qua a fare questa partita molti attenti perché era una partita difficile sia per la posizione di classifica che ci vede occupare e sia per il blasone della squadra che c'era da affrontare, quindi siamo stati belli coperti abbiamo aspettato un pochettino i momenti opportuni, l'abbiamo fatto giocare finché si sono sfogati poi alla fine quando la partita ha cominciato a prendere la piega del pareggio e specialmente quando loro sono rimasti in Drey dietro ho tenuto Farako largo a destra proprio per cercare che con le sue sgaloppate e velocità di ingugniarsi tra la difesa e ospite così è stato, infatti da là poi è arrivato il gol della vittoria Allora, dobbiamo dire che Farako è un giocatore che ha fatto la differenza anche in categoria superiore era un giovane molto interessante, però credo che oggi il Mirto abbia vinto per la compattezza per la voglia di sacrificarsi, magari sulla carta anche inferiore alla qualità tecnica dell'Abruzzium però ve ne andate vittoriosi? Sì è vero, sulla carta eravamo inferiore all'Abruzzium però abbiamo gestito bene gli infortuni e i cambi perché se tu vedi Pedace quando è entrato è entrato come esterno d'attacco dopo si è trovato a fare il terzino sinistro con la fuoriuscita del nostro terzino sinistro quindi avendo una panchina corta abbiamo improvvisato di tutto e per tutti quindi alla fine questi sono tre punti veramente che pesano un macigno per noi per come si è presentato Allora, questo campionato è cominciato un po' in ritardo per voi però secondo me si è puntato sull'usato sicuro fammi passare questo termine insomma, mister Prantera e tanti giocatori abbiamo visto insomma in specie in difesa sia in porta che al centro, sugli esterni insomma ho visto una squadra che comunque secondo me può risalire ancora di più la classifica Questa è una squadra che bisogna valutarla dopo la sosta di Natale perché noi siamo presentati a questo campionato di prima categoria senza una preparazione con due o tre allenamenti settimanali quindi abbiamo sofferto l'inizio continuiamo ancora a soffrire perché se tu vedi bene la condizione atletica dei giocatori non è al top però ho detto ai ragazzi di giocare con tranquillità perché dopo quando arriva questa sosta ci riprenderemo alla grande e il girone di ritorno faremo parlare di noi in modo egregio In bocca al lupo Crepi il lupo